La nostra società, la verità, non si interessa più. La fusione fredda è una realtà, al di là di ogni ragionevole dubbio. Noi siamo stati boicottati in un modo tenace e insensato dalla scienza ufficiale, dalla finanza internazionale e da tutti i poteri forti. Sono circa 100 i fisici che in tutto il mondo non hanno mai smesso di credere che la fusione fredda fosse la scoperta scientifica del secolo. Qui a Milano, in Via Ampere, c'è un piccolo laboratorio dove Martin Fleischmann continua a lavorare insieme ad altri due fisici italiani e saranno i protagonisti della nostra puntata, gli eretici della fusione fredda. In questo laboratorio di Milano, un laboratorio privato, Giuliano Preparata, Cattedra di Fisica alla Statale e Emilio del Giudice Ricercatore stanno mettendo a punto insieme a Fleischmann un procedimento a fusione fredda per scaldare l'acqua. Ma prima di entrare nel Vespaio, proviamo a capire come avviene il processo di fusione. Il problema fondamentale della fusione è che per arrivare a distanze così vicine i nuclei devono superare una grossa barriera che c'è fra di loro per il fatto che tutti i nuclei hanno la stessa carica, sono cariche positive. Quindi noi sappiamo dalla fisica della scuola secondaria che due cariche dello stesso segno si repellono, si respingono e quindi dobbiamo vincere questa repulsione. Per vincere questa repulsione si crede che nelle stelle questo avvenga attraverso le alte temperature e le repressioni che esistono nel centro delle stelle. Quindi si vince questa repulsione, questa barriera e poi viene fuori tutta questa energia. Naturalmente questa è la fusione calda. Perché si chiama calda? Perché si usa l'agitazione termica ad altissime temperature per vincere questa barriera per poi accedere a questa energia. La fusione fredda invece vince questa barriera e questa è la scoperta di Fleishon e Pons non mettendo questi nuclei in una matrice metallica, dentro un metallo. Quando sono dentro un metallo come il palladio questi nuclei sono in grado di avvicinarsi tanto da cominciare a fondere senza alcun bisogno di arrivare a queste enormi temperature a cui devono arrivare queste altre macchine di cui parlavamo prima della fusione calda, questi Tokamak. Qui l'equivalente del reattore è quindi questa cella dove è inserito un filo di palladio avvolto a spirale, quello colore argento, e acqua pesante. Cioè un'acqua dove al posto dell'idrogeno c'è il deuterio, quella parte su 6.000 e mediante l'elettrolisi si determina un eccesso di calore. La cella poi viene messa dentro questo calorimetro. Noi la mettiamo qua dentro perché vogliamo misurare la quantità di calore che si produce in questo processo. Da questo tubo entra dell'acqua e l'acqua passando si scalda perché questo oggetto produce calore, produce energia e scaldandosi riscalda, manda fuori dell'acqua da questo tubo a una temperatura maggiore di quella in cui entra. Può toccarla, questa acqua è calda. E' calda. E' calda. Naturalmente non è la sensazione di un dito che misura l'eccesso di calore. I rilevamenti sono fatti col computer collegati al calorimetro. Ma quello che stupisce è che abbiamo sempre visto uscire energia da centrali enormi e questa possibilità ha dell'incredibile. E' incredibile perché il primo conto che viene da fare è ma quanto costa? Io prendo un affare di questo genere che potrà presto arrivare a 10 kg, un insieme di questo. Per far questo mi servirà un grammo di palladio. Un grammo di palladio costa dell'ordine sul mercato dell'ordine di 15-20 mila lire. Mi costa un grammo di palladio e ho bisogno per esempio di un litro di acqua pesante che ai costi di oggi costa 4-450 mila lire al litro. Questo oggetto potrà darmi 10 kW che è l'energia necessaria a far funzionare un appartamento, cioè voglio dire un appartamento grande, 10 kg, per un tempo dell'ordine di 500 anni. La cosa formidabile è che questa è un'energia di cui è praticamente inesauribile. perché una parte su 6 mila dell'acqua è acqua pesante. La sola domanda che ci si può porre è chi potrebbe volere il successo di questa ricerca? È una domanda per niente semplice ed è comprensibilissimo che alcune persone non vogliono che questi esperimenti abbiano successo. sono uno scienziato e quindi mi interessa studiare l'aspetto scientifico del fenomeno senza chiedermi se potrà diventare utile o no. Tuttavia nel nostro caso credo che uno dei problemi di questa ricerca sia dovuto al fatto che è abbastanza chiaro che potrebbe avere un forte impatto economico ma non è detto che l'avrà potrebbe già è il famoso 2 più 2 che verrebbe da fare anche ad un profano ma perché anche la scienza ufficiale ovvero quello che ruota attorno ai comitati scientifici o ai rubbier non tiene in minima considerazione esperimenti che costano due lire così promettenti. Ho provato a chiederlo a Rubia che mi ha risposto con un fax dal CER di Ginevra sono spiacente di comunicarle che il professor Rubia non è interessato a commentare le dichiarazioni di Giuliano Preparata. Quando la scienza aveva pochi mezzi in fondo abbandonare una teoria che si rivelava sbagliata non era un gran danno insomma i danni erano soltanto al narcisismo di chi eventualmente l'aveva proposta ma quando ci sono grandi capitali in gioco scoprire all'improvviso che è tutta sbagliata una certa prospettiva significa un enorme disinvestimento di capitali significa migliaia di persone che perdono il loro posto di lavoro e così via insomma intorno alla fusione calda ci sono interessi economici colossali e migliaia di persone che ci lavorano e cosa ancora più grave esiste un progetto del governo italiano di ospitare in Italia una enorme macchina mondiale questa realizzata da tutti i paesi del mondo che si chiama EITER International Thermonuclear Experimental Reactor che dovrebbe costare qualcosa come 30 mila miliardi in 10 anni cifra conservativa perché è una cosa grave questa? è perché queste macchine a parte il fatto che difficilmente funzioneranno non sono affatto pulite cioè cosa dovrebbero dare queste macchine? secondo i progetti dei loro autori dovrebbero dare energia senta ma se è un gravissimo errore perché l'Italia sta investendo tutti questi soldi? perché appunto come spiegava Emilio un momento fa un momento fa gli interessi sono talmente grossi sia di una grossa comunità di scienziati che stanno lavorando a queste cose sia delle grandi industrie che devono fornire pezzi cioè non è un caso che in questa commissione di EITER il presidente sia un direttore centrale della firmeccanica che attraverso l'ansalto spera di avere grossissime commesse nella realizzazione di magneti superconduttori fibre e questo genere che sono necessari a mandare queste cose quindi diciamo questo business drogato fa l'interesse di un certo ceto di industriale scientifico ma sicuramente secondo me non fa l'interesse dei cittadini l'attenzione del mondo quindi è rivolta alla fusione calda a EITER che si studia a Monaco in questo centro di ricerca che si chiama NET diretto da un fisico italiano il professor Toschi l'Italia ha dimostrato interesse a ospitare questo grande progetto nell'Italia meridionale e ci sono come mai nell'Italia meridionale ci sono delle sovvenzioni in base esattamente perché c'è le sovvenzioni dei fondi strutturali della comunità europea e sarebbe questo qui il reattore che dovrebbero costruire in Italia per avere accesso ai fondi strutturali bisogna soddisfare certe condizioni sulla qualità del progetto che lei presenta i fondi strutturali lo sa della comunità europea che sono una cifra gigantesca serve per dare sviluppo a certe zone depresse dell'Europa no, su questo siamo d'accordo allora, non è che una piccola ricerca possa essere suscettibile di finanziamento dai fondi strutturali questa potrebbe essere in parte perché intorno a un'impresa di questo genere lei potrebbe veramente a parte dal punto di vista occupazionale avere migliaia di persone che ci lavorano c'è un certo indotto per le industrie che potrebbero lavorare per questo tipo di imprese perché deve capire che questa cosa se venisse fatta deve durare vent'anni per il momento voi non sapete ancora se quel motore lì produrrà energia giusto? non abbiamo quella certezza di cui uno ha bisogno quando chiede un finanziamento di 10 miliardi di dollari in sostanza per accedere ai grandi finanziamenti abbiamo capito che occorre un progetto imponente la fusione fredda invece non possiede questi requisiti perché gli esperimenti costano poco costa pochissimo non servono questi grandi investimenti e che noi abbiamo portato un pezzetto di sole qui a Via Ampere in questo oggetto qua ma per avere anche quel poco occorre l'avalo della scienza ufficiale che invece ha preso le distanze e così la cosa va avanti semi-clandestina sulla volontà e la convinzione di singoli perché la scienza è diventata è ritornata a giocare quel ruolo che giocava l'accademia all'epoca di Galileo cioè? è ridiventata una stretta ancella degli interessi economici e di potere e ritorniamo all'Enea il nostro ente per l'energia alternativa a mezzo chilometro di distanza dagli edifici dove si studia la fusione calda c'è un ripostiglio che è un piccolo laboratorio dove due fisici guidati dal professor Scaramuzzi lavorano alla fusione fredda solo il luogo in cui è ubicato la dice lunga sulla considerazione di cui gode questa ricerca non è un laboratorio come quelli del CERN di Ginevra? eh? assolutamente diciamo un'altra scala cioè serve poco per fare energia qua dentro è vero? serve poco per fare questi esperimenti quello che vediamo dentro la cella è un esperimento in corso sempre con il palladio e l'acqua pesante qui ci sono stati casi di presenza di Elio 4 una scoria con una radioattività pari al fondo naturale che confermerebbe quindi che si tratta di fusione nucleare queste parecchiature invece servono a misurare la quantità di energia che si produce quanti watt riuscite a produrre? per citare il migliore dei risultati in genere si cita sempre il migliore dei risultati degli anni scorsi noi abbiamo avuto un esempio in cui abbiamo prodotto una potenza che è variata da un watt fino a 11 watt nel giro di tre giorni per una durata ininterrotta di tre giorni e quando producevamo 11 watt nel sistema entravano solo 8 watt quindi stavamo producendo più energia di quanta ne entrasse e questo è un fatto abbastanza rilevante quello che vedete con i vostri esperimenti parte da lì parte da qua quando noi sottoponiamo questo oggetto al procedimento sperimentale di cui le stavo parlando questo oggetto produce un eccesso di energia di calore esatto adesso puntiamo più alla riproducibilità che alla quantità di calore prodotto perché vogliamo capire quali sono le condizioni del materiale che rendono possibile questo fenomeno quindi i punti deboli sono che non sempre si riesce a riprodurre non sempre ci sono le scorie e per gli scettici è più che sufficiente per liquidare in tronco tutta la fusione fredda non si può parlare di fusione nucleare perché non ci sono le indicazioni necessarie come l'emissione di neutroni o l'emissione delle particelle alfa oppure trasmutazioni di elementi nessuna di queste cose è stata osservata nulla non siamo nel campo della fisica a parte il fatto che questo andrebbe a stravolgere gran parte della fisica del ventesimo secolo non si può dimostrare che una cosa è vera si può solo dimostrare che una cosa è falsa ma finché non si è riuscito a dimostrare che è falsa quel qualcosa rimane vero credo che quelli che si occupano oggi possono confermarle che non c'è una spiegazione soddisfacente dal punto di vista teorico dei fenomeni fisici che starebbero alla base di quello che loro misurano il secondo guaio grossissimo della fusione fredda è la non riproducibilità il fatto di richiedere a uno stadio molto poco avanzato la riproducibilità è un modo per chiudere il sistema cioè a un certo punto vabbè questo non è riproducibile ma adesso tu mi spieghi perché tutto a un tratto questa cosa era tranquilla poi a un certo punto c'è un picco una cosa del genere e poi dice va sulla temperatura cosa è successo dentro la cella? si è andato sulla temperatura vuol dire che c'era una sorgente di calore e questo sorgente di calore che esiste stato? c'è stato qualcuno che dentro ci ha messo a pedalare ad accendere una fiamma eccetera? no allora il problema fondamentale di questi stupidi di scienziati perché non posso chiamarli altrimenti è che loro non hanno voluto che loro dicono o mi fai vedere che ci sono i neutroni e i neutroni non ci sono perché il processo è diverso o mi fai vedere che è riproducibile e la riproducibilità non è una cosa che si può richiedere a questo livello se uno non ha capito bene l'importante è che ci siano degli eventi che non possono essere spiegati dalla teoria la cui unica spiegazione è che ci sia una sorgente di calore e a un certo punto il problema è di mettersi lì questa è una cosa importantissima studiamo facciamo un'analisi non costa tanto come diceva giustamente lei facciamo un'analisi un'analisi a tappeto sistematica eccetera e poi alla fine no questo è stato un modo vizioso per distruggere tutta questa la grande speranza della fusione fredda nei primi tempi della radio Guglielmo Marconi percepiva i segnali radio solo di notte e non di giorno cioè nei primi tempi non sempre gli esperimenti riescono perché uno non ha ancora imparato tutte le condizioni che lo rendono possibile secondo lei si poteva essere più avanti oggi con la ricerca moltissimo moltissimo noi siamo stati boicottati in un modo tenace e insensato dalla scienza ufficiale e dalla finanza internazionale e da tutti i poteri forti la struttura ufficiale americana cioè gli enti che finanziano la ricerca il department of energy la national science foundation non finanziano più da molto tempo e perché? perché hanno deciso che era una palla la generale elettrica che è il principale produttore mondiale di centrali credo non vede il buon occhio che nasca una civiltà tecnologica in cui tutto funziona a pile però potrebbero vendere le pile stava dicendo probabilmente loro valutano che il valore aggiunto che si genera con la produzione di queste pile non compensa il mancato valore aggiunto che si ha con le centrali cioè che alla fine ci guadagnano di meno anche tenendo conto che le centrali sono abbastanza complesse da richiedere pochi produttori centralizzati in tutto il mondo mentre queste pile sono abbastanza facili da fabbricare per cui qualunque artigiano della malessia non può fare da quando sono a Milano avrò fatto una sessantina di laureati eccetera non sono riuscito a reclutarne neanche uno c'è un certo tipo di discriminazione per esempio pubblicare un articolo che parli esplicitamente di fusione fredda su una rivista di quelle tradizionali tipo il fisico a brevio è praticamente impossibile quindi oggi come oggi in Italia si sta considerando la possibilità di spendere 30 mila miliardi per fare la macchina della fusione calda ITER è assurdo che non ci sia nello stesso ministero un programma che costerebbe un migliaio di volte di meno per fare queste cose qui un laboratorio di ricerca della fusione fredda io penso che in un paio di miliardi l'anno possa fare un lavoro a tappeto per esempio quindi 4 o 5 di questi laboratori 4 o 5 di questi laboratori potrebbero veramente nel giro di pochi anni arrivare a una situazione assolutamente definitiva sulla natura del fenomeno sui parametri che lo controllano sulle possibilità di miglioramento e così via ora è legittimo chiedersi e se avessero ragione loro se fossimo ad un passo da risolvere almeno in parte il problema del pianeta è evidente che noi non sappiamo cos'è vero e cosa no sappiamo invece che molto spesso le grandi scoperte sono uscite da singoli che sono andati contro tutto e tutti quindi considerando quello che c'è in ballo forse un po' più di attenzione ai signori che abbiamo appena visto la meriterebbero buonasera ma secondo lei perché fanno così? perché vogliono fermare la cosa non sono pronti a gestirla cioè vogliono fermare gli esperimenti? vogliono fermare la fusione e meglio faceva una cosa allora quindi lo dico allora Emilio fa questa congettura allora tutto un certo la finanza mondiale dice ma non fare i nomi perché tutto ciò guarda i nomi non dimenticare no ma lei sarà attenta perché poi lei ci metterà quello che ci può mettere comunque comunque non fare i nomi no indica solo le posizioni sociali le posizioni sociali la finanza mondiale dice qua tutti noi fredda noi non siamo pronti a gestirla dobbiamo rientrare dagli ammortamenti per esempio questa guerra del golfo abbiamo dovuto mandare 500 mila uomini a presidiare le nostre posizioni eccetera quindi c'era un po' di anni per rientrare dalle spese no allora dice se arriva questa posizione fredda qua siamo fregati eccetera ma chi l'ha portata se non fredda beh c'è Fleischmann è preparato Fleischmann ci pensano i giapponesi è preparato ci pensano me lo dica a me ci pensano altri e cioè è di italiani gli italiani cioè come si fa ma va bene no ci pensiamo ci pensiamo noi poi vendiamo il brevetto no o teniamo in cassetto o teniamo in cassetto cioè ci facciamo pagare per non usare anzi